Genoa Model United Nations è una conferenza di tre giorni in cui studenti delle superiori e dell'università dibattono di temi di attualità che spaziano dall'economia oppure problemi sociali con lo scopo di trovare delle soluzioni a questi problemi. Fa parte del circuito delle Nazioni Unite e noi come interpreti utilizziamo il sistema BIDUL per interpretare, che è un sistema che ci permette di attuare la tecnica di interpretazione simultanea. Per noi studenti di interpretariato è sicuramente una grandissima opportunità in quanto gli studenti che partecipano al GEMUN provengono da tutto il mondo quindi possiamo sentire i diversi accenti e metterci in gioco. Questo è il mio terzo anno come membro della Staf. Penso che ho raggiunto molto esperienza da lavorare con la Staf a GEMUN ma non è l'unica cosa che ho fatto. Ho testato per i due anni passi come witness nell'International Court of Justice. Questo è il mio terzo anno qui al GEMUN come membro dello staff e credo che in questi tre anni come staff credo di aver acquisito appunto molta esperienza in materia ma non è solo l'unica cosa che ho fatto perché sono stata anche testimone presso la Corte di Giustizia Internazionale e credo che anche questo sia stato un buon punto a favore nella mia esperienza. È molto interessante appunto di vista linguistico perché appunto dobbiamo cercare di capire tutti i vari accenti degli studenti e quindi è impegnativo sì ma sicuramente molto soddisfacente. Grazie. 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 Grazie.